C'era una volta un mercante, al famoso mercato di Baghdad. Un giorno vidì uno sconosciuto che lo fissava con stupore. E capì che quello sconosciuto era la morte. Valido e tremante, il mercante fuggì dal mercato e percorse molte, molte miglia per arrivare alla città di Samarra. Era certo che l'arma a morte non l'avrebbe trovato. Ma quando giunse a Samarra, il mercante trovò ad attenderlo, la sinistra figura della morte. Molto bene, disse il mercante. Mi arrendo, sono tuo. Ma dimmi, perché avevi il volto sorpreso nel vedermi stamattina a Baghdad? Perché, disse la morte, avevo un appuntamento con te stasera, qui a Samarra. Che c'è continua.